Lei sotto il numero tante donne? Marco Stefano, guarda un amico. Pensa! Tutti i pressi si appasa, eh? E dove si chiama? Fermi, 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 e te ne monti visite Roma. Oh, Roma è spasso. Mi sono andato a Roma. Fermo, andate. Solo che ti fa Milano, poi del genere non lo so. De nome. e ce l'hai, si è cambiata il miso di Napoli la misa di Roma il derby del sud prendi ferma di un partito qui c'è il gioco lo sposalizzo se non andiamo a più la misa Enzo Enzo prendi la misa prendi non basta prendi la misa non basta prendi la misa è una misa di un po' cotta amici è cotta? è sì, domicile di eri domicile di eri si, conosci prendi via e passi lo stanno presa sono cittadini sono cittadini il miso è di te via le urla via le urla cerca pure vai ma cerca vai ma prima di fare tutto il salto il gioco il gioco dico prima ma la spaglia di lacrima poi se sarà tranquillizzato presa allora il miso è di me via le urla è un cao è se si va a te la dici se ha le urla e asorca del eri del barco vai di eri a la di eri ha renegato ma se la van a dormir a la di eri ma se la è un adulto prendi via via la sera attenzione al stop ecco ecco e ma come vai c'è andranco e valentina fuori eh sì 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 no male non hai mai di fuori come va come va ma vai la mano che io ma 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 io sentite tutto se sono forbidio però se sono forbidio bellissimo ma c'è l'abbia eh eh mi ti mando da tenere prima è ma c'è l'abbia da Marco e Giulia pronti partenza via via e e con e e e e e e e a chi buongiorno buongiorno ma di che da un stop ho fatto un circolo in vitrino non so che è successo vabbè sento la mano che ti sei mi dico eh sì mi dame dentro con mano mezzo i ganni fuori ma voglio che andrà no non 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 passaggio allora passeggio passeggio passaggio si manava la scisa è un po' 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 come si allunga è un po' il cavaniere si deve piegare 90 gradi in avanti e mette le mano per terra e mette le mano per terra e mette le mano per terra la donna prende il cavaniere per i piedi e poi fa carriola meta passaggio posso passaggio poi passaggio 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 tengerlo in avanti il circolo è un circolo lei andiamo asli attraificano o c che ah si è a nipoti Ehi, in dietro, in dietro Va a servir un par di ditti Aseggio, adesso, la dama davanti a Cagliere Se deve mettere in plena posizione morta scabola En este mani metellano Adesso, vabbè, vabbè, vabbè Adesso, vabbè, vabbè, vabbè a cariola a cariola vai a cariola vai a cariola come dice cariola ciao ciao avanti 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 ai we Itu prendi μα 員 avanti 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 Gli odori! A come scie Vigie! Prézzimo i PA! Oggi vale lo bene a chi si si! E STA! SACHE! Echan! Ora vediamo come va! Lo faccio! PASTEXO! Basta! CINCO-NONE! Balli Con la trama Ludo Davanti Ti vediamo qui Ti vediamo qui Le vedo ci Hola Terni che c'è lo sto Eeeeeeeeeeeee Giuliani sa voi No 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 Ludo Pani Chia Pani Pani Ani Pani 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 Vede... Deco! Passaggio! In fare! In fare! No! E io mi... Stavo per esempio, stavo pure con la... Vai, fai il passeggio con sopra! Sì! 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 Allora partendo facciamo la retromarcia! Non vedete girare! Dovete camminare a retromarcia! A retromarcia giusto! A retromarcia! Vai! Fermi! E' il secondo a destra! Vabbè, voi! Fermi le retromarcia! Arriva a tre! Arriva a tre! Arriva a tre! Arriva a tre! Boni! Quando sto apposito dovete fermare! Il signor si è mosso, non mi si è colto! Non mi si è colto e si è mosso il signor! Si, come diamo! Si! Calamati! E' dame dentro a cam in fuori! E' rami il controllo! Eh, vabbè lo vediamo! E' rami il controllo! E' i voli da cam in fuori! E' rami il controllo! E' rami il controllo! E' rami il controllo! E' rami!